Grazie, buon pomeriggio a voi. Grazie, così come saluto e ringrazio un altro nostro ospite in diretta da Roma che è Alexander Yaganiev, direttore dell'agenzia Vista. Probabilmente l'avrò pronunciato in maniera sbagliata. Buon pomeriggio direttore. Abbiamo ancora le immagini, io rimarrei se possibile sulle immagini in diretta dell'Air Force One che vola verso la Florida dove sembra che i vicini non siano felicissimi di avere Donald Trump. Bene, io chiederei un commento intanto a te, anche direttore, ad Alexander su quanto stiamo vedendo e su questo passaggio storico di quest'oggi. Si chiude l'epoca Trump e inizia quella di Joe Biden. Sì, è un passaggio epocale, come lo dicevi tu da studio. È un'epoca, è proprio un modo di fare, un'impronta completamente diversa. Noi come agenzia Vista, in partnership con l'agenzia Agia e il direttore Mario Secchi, stiamo seguendo da vicino l'insediamento di Biden. Fra poche ore a Washington, una Washington che è militarizzata, quindi un Capitol Hill in cui ci sono più soldati che non presenti. un po' la prima volta nella storia dell'America Biden promette una politica completamente diversa rispetto a Trump, ma è una cosa anche visiva, una cosa plastica tra il presidente oscente e il nuovo presidente. Direttore Yakhnajeev, che cosa succede adesso? Che cosa ti aspetti che possa accadere in questa fase politica? Dove Conte troverà numeri evidentemente più consistenti rispetto a quelli di ieri del Senato? Sì, permettimi tanto anche io di associarmi alla solidarietà all'onorevole Polverini. Naturalmente, penso un po' tutti lo sentiamo. Facciamo anche noi, è tutta la nostra redazione, senza alcun dubbio ed esito. Esitazione. Grazie. Permettimi anche di salutare il direttore Piccinini, che conosco da anni, lavoriamo sulle stesse cose. Ecco, noi, come tu dicevi, con le nostre telecamere di agenzia Vista siamo stati presenti e siamo presenti minuto per minuto in questa crisi. In questo momento c'è anche il vertice a Palazzo Chigi, con Conte la maggioranza, si aspetta Conte che salga al Quirinale entro stasera e in contemporanea il vertice, in questo momento anche del centrodestra e si aspetta alle 17 quello del Partito Democratico. Ecco, che cosa succede? C'è un governo di minoranza, un governo che appare debole in questo momento senza la maggioranza assoluta del Senato. Il vero problema del governo saranno le prossime settimane, i prossimi mesi perché il problema si andrà a creare all'interno delle commissioni parlamentari dove la maggioranza detiene solo 4 sulle 14 commissioni, l'opposizione detiene altre 4 in 6 commissioni che sono commissioni chiave anche per il recovery plan, anche per un'eventuale nuova legge elettorale, c'è una parità e lì Renzi e Italia dei Valori sicuramente faranno sentire le loro ragioni. Renzi che non ha chiuso completamente la porta alla maggioranza che invece sembra quasi completamente chiusa da parte delle forze di governo. Ci sono dei rumors di Palazzo Chigi, danno questa crisi, danno un tempo per risolvere, per cercare di ricomporre questa crisi di 10 giorni, massimo due settimane. Con la creazione forse di un gruppo di responsabili cosiddetti, il primo tra questi potrebbe essere l'adesione di Nencini ieri sera al photo finish. Abbiamo vissuto un po' al cardiopalma questo finish, voto del Senato con due senatori Nencini. Insomma ci vorrà ancora del tempo per capire dove stiamo andando. Io devo salutarti e ringraziarti perché tra poco, perché devo andare subito in pubblicità, sono in ritardissimo ma come avete capito oggi è l'America che detta i tempi. Voi che siete tra l'altro dei direttori e l'onore Polverino lo capirà bene. Quindi devo salutarvi e ringraziarvi, Piccinini rimane con noi. Grazie onorevole Polverini, ci vediamo presto. Davvero grazie, buon lavoro e grazie ancora al direttore dell'Agenzia Vista, Alexander Yakhnajev. A presto. Noi ci vediamo tra poco dopo la pubblicità, grazie.